Pace quasi fatta tra il Comune dell'Aquila e i commercianti del centro storico che incassano positivamente la decisione dell'assessorato alla viabilità di posticipare l'orario dell'isola pedonale attiva a partire dal 1 agosto dalle 18 alle 20. Ma non basta, all'isola pedonale devono corrispondere parcheggi di prossimità e l'organizzazione anche più periferica di posteggi per le auto dei commercianti che tutte le mattine arrivano in centro storico per lavorare come spiega il presidente del movimento costituito alcuni mesi fa Ugo Mastropietro. Voglio ringraziare il Comune per l'istanza di aver spostato dalle 18 alle 20 in quanto era una richiesta di noi commercianti di spostare l'isolata dalle 20 in questo momento in quanto ancora privi di parcheggi di prossimità eccetera eccetera. Quindi ringraziamo il Comune col quale stiamo collaborando in maniera positiva finalmente e costruttiva per il futuro. Mancano assolutamente da sempre un problema ormai storico che mancano i parcheggi all'Aquila quindi i parcheggi sono la cosa principale per poter poi fruire delle attività che stanno rinascendo in centro storico. Questa è la base affinché si possa poi procedere ad una pedonizzazione a tutto tondo. Noi commercianti chiediamo anche che ci sia data la possibilità di raggiungere il centro con dei mezzi che non sia la macchina quindi col pulmino in questo caso. Comunque so che adesso il Comune è tornato in possesso anche del megaparcheggio di Collemaggio quindi da queste varie cose si dovrebbe cercare di trovare un accordo tra di noi affinché possiamo liberare le macchine al centro. certo questa cosa deve avvenire